Gli orrori dell'assedio di Mariupol e Igor Krastov li porta incisi nel corpo. A soli otto anni è stato testimone del capitolo più sanguinoso di questa guerra scoppiata nel cuore d'Europa. Oggi, con la sua famiglia, è riuscito a fuggire a Zaporizia. Di quei giorni rimangono i pensieri raccolti in un diario, dove con un'innocenza quasi surreale racconta cosa significhi vivere tra piogge d'artiglieria e schegge di granata. Ho una ferita sulla schiena, la pelle è strappata, legge il bambino. Mia sorella ha la testa rotta e mia madre si è strappata ai muscoli della mano e ha un buco nella gamba. Quelle ferite Igor le mostra con l'orgoglio di un bambino, che ha superato prove di coraggio che per gli adulti a poche centinaia di chilometri restano inimmaginabili. Oggi è al sicuro, ma dice di sentire la mancanza della sua città, della sua vita e di una comunità che in gran parte è stata spazzata via. Amava disegnare, racconta la madre Olena. Disegnava con la penna sulla carta, non gli sono mai piaciute le matite colorate e i pennarelli. Disegnava negozi e giochi con la penna, era la sua passione. Queste sono le nostre vicine di casa, Nadia e Galia. Entrambe sono state sepolte, è morta prima una sorella, poi l'altra, e questa è l'ultima cosa che ha disegnato. Prima di fuggire da Mariupol, Olena ha registrato un video delle rovine della loro casa, per conservarne almeno il ricordo, anche se a quel punto un missile russo l'aveva già sventrata. Chi ha lanciato quel razzo oggi ha occupato l'intera città, e la famiglia Krastov non ha idea di quando potrà ricostruire su quelle macerie.